Esempi in cui invece utilizzare un racconto non lineare è più riuscito o è sufficientemente motivato effettivamente da quello che si racconta nel film? Per esempio mi viene in mente Pulp Fiction perché Tarantino è l'altro grande regista della nostra epoca insieme appunto a Paul Thomas Anderson e a Christopher Nolan, stiamo parlando di tre registi che stanno condizionando l'immaginario collettivo con i loro film. Poi c'è anche David Fincher che secondo me è il più bravo di tutti, ma comunque per tornare a Tarantino il modo in cui incasina il tempo Tarantino in Pulp Fiction è di una bellezza e sta proprio dentro la storia. Perché? Perché è una storia corale e quindi io seguo un personaggio e poi questo personaggio muore ma poi ne seguo un altro e questa vicenda riporta in vita John Travolta perché io ho ripreso poi i due personaggi nel diner che stanno facendo la rapina nel diner, Tim Roth e la sua compagna non mi ricordo che attrice fosse e quindi la cornice mi riporta John Travolta in vita che dopo l'episodio di Mr. Wolf e di Marvin e quindi ci sta, ci sta perché io cambiando il punto di vista salto nel tempo ma seguo gli archi narrativi dei vari personaggi di questa epopea pulp e quindi io lì ci vedo una giustificazione interna alla sceneggiatura, non semplicemente un trucco nel montaggio per massimizzare l'intensità dello spettatore ma senza avere degli agganci profondi con l'arco narrativo. Non abbiamo citato il direttore della fotografia di Memento che è Walter Fitster. Ha accompagnato Nolan in tutti i suoi film quando poi a un certo punto ha deciso di intraprendere la carriera da regista e ha fatto questo unico film che se non sbaglio si intitola Transcendence con Johnny Depp, un film non brutto, bruttissimo, un disastro totale e questo ha stroncato la sua carriera. Nel frattempo Christopher Nolan ha avuto l'intelligenza di scegliersi come collaboratore un vero artista e cioè Hoyte van Hoteima che è stato prima direttore della fotografia di Alfredson, regista svedese magnifico e lo ricordiamo nel film La Talpa. Ecco, il film La Talpa che a livello cromatico e di texture dell'immagine è davvero un riferimento. Ecco, questo regista dai toni cupi oscuri mi ricorda un Darius Congi, ecco, mi ricorda questi direttori della fotografia, anche un Nesto Salmendros, direttori della fotografia che sono in grado di lavorare proprio sulla texture, sulla grana, rendere quasi materica l'immagine e sappiamo che Christopher Nolan è un fanatico della pellicola, lui gira in pellicola in 70 mm e in questo è associabile appunto a Tarantino e anche a Paul Thomas Anderson che sono tutti e tre dei sostenitori della pellicola contro il digitale, quindi girano ancora in pellicola con tutte le difficoltà e la delicatezza che comporta, mentre dall'altra parte l'altro grande direttore della fotografia che è Roger Dickens ha detto non girerò mai più in pellicola perché il digitale ha troppi vantaggi e quindi c'è proprio questa fazione oggi tra grandi registi e direttori della fotografia che continuano a ostinarsi a girare in pellicola e altri che invece sono passati definitivamente al digitale come anche David Fincher gira in digitale. È interessante vedere la produzione di immagini, che tipo di immagini, che tipo di organicità si riesce a ottenere anche col digitale per esempio, ma Nolan per fortuna adesso collabora con questo artista e chiaramente con Hans Zimmer che vorrebbe essere l'erede di Morricone ma purtroppo non lo è. Però la colonna sonora di Interstellar, promettimi, è bellissima. La colonna sonora di Interstellar è bellissima, quella di Inception è magnifica, l'idea poi che sta alla base della colonna sonora di Interstellar è questo utilizzo dell'organo, quindi di uno strumento che si trova di solito in una cattedrale per descrivere l'immensità del cosmo, è azzeccatissima, ma soprattutto secondo me la più bella che ha fatto è stata Inception, dove ha preso una canzone di Edith Piaf, Je ne regrette rien, ecco chiedo scusa per il mio francese, è terribile, ma questa canzone la rallenta, la rallenta e questa dilatazione della canzone proprio rallentata così è il riflesso sonoro della dilatazione del tempo che c'è sognando nei vari livelli del sogno. e quindi questo suono della canzone dolce e delicata di Edith Piaf diventa un qualcosa di minaccioso, di spaventoso, che è poi la ritmica che accompagna Inception, che è un'altra esperienza cinematografica pazzesca. Se devo riassumere, andare a vedere un film di Christopher Nolan è come andare a vedere il Cirque du Soleil, uno spettacolo pazzesco, e quando esci di lì sei frastornato e dici ma cosa ho visto? E effettivamente hai visto delle acrobazie pazzesche, ma poi dopo dici ah sì però era quella cosa lì, era quella cosa lì, sicuramente non ha la profondità di altri registi che abbiamo trattato. Tornando a Danz Zimmer invece però devo dire che la colonna sonora che preferisco in assoluto sua è quella della sottile linea rossa, dove secondo me lì ha raggiunto la vetta di minimalismo epico, intrecciando anche i motivi folk dei canti della Melanesia, che sono dei canti stranissimi perché risentono proprio del passaggio dei missionari cattolici e quindi hanno mescolato le loro voci primitive con questi canti cristiani e l'effetto è stragnante, unico e poi con questa forza epica della musica di Hans Zimmer, ma adesso che sto parlando mi viene in mente la colonna sonora di Master and Commander, la colonna sonora di Rango, no no no, ritiro tutto, ritiro tutto, Hans Zimmer è un grandissimo ma Morricone resta il più grande. Però tornando dalla musica alle immagini, un'altra cosa che mi ha colpito anche di Christopher Nolan è che lui dichiara di preferire i set reali ai tanti effetti digitali che si usano oggi, quindi quanto più possibile lui cerca di costruire fisicamente anche dei set complicatissimi come quello di Inception o come quello di Interstellar, cioè ci sono le riprese del backstage di Matthew McConaughey che si aggira sospeso nel tesseratto che hanno costruito fisicamente. Ecco, se Nolan dedicasse lo stesso impegno per raggiungere lo stesso livello di autenticità e di verità anche nella scrittura dei suoi personaggi, probabilmente potrebbe diventare il nuovo Steven Spielberg e invece per il momento è Christopher Nolan, ecco. Ma forse lui è contento così, ma diamine, è comunque passato alla storia. Credo che non ci sia nessun regista, appunto forse solo Spielberg, ma non credo, credo neanche lui che abbia così tanti film nella classifica dell'Internet Movie Database perché proprio è il regista che incarna lo spirito dei tempi, questi grandi spettacoli. Sì, siamo nell'era del cinema più spettacolare, infatti i film di supereroi sono quelli che incassano di più al botteghino e ogni film di Nolan è un evento, proprio come lo erano i film di Kubrick che poi alla fine della sua vita faceva uscire un film ogni dieci anni, invece Nolan riesce comunque a mantenere un bel ritmo. Chissà, chissà cosa sarà questo Tenet. Tu che cosa ti aspetti? Un grande thriller internazionale con dei casini nel tempo? Spero che non sia troppo incasinato perché poi io ho sempre dei problemi a seguire queste trame, ho bisogno di qualcuno che mi faccia uno schemino. Almeno ce lo spiega, pensa a David Lynch che non spiega niente, oppure se ce lo spiega pubblica un libro di 700 pagine per spiegare come funziona Inland Empire. Già ho sofferto quattro ore come un cane e metà delle persone che erano in sala hanno abbandonato la sala ma io ostinatamente sono rimasto lì fino alla fine e poi esco, non ho capito niente, vado in libreria, c'era la guida di David Lynch a Inland Empire, 700 pagine. Ho detto no, grazie. No, infatti una puntata su David Lynch non la faremo mai o comunque non la farai con me, te lo dico già adesso. No, promettimi che la faremo perché io so che chi ci ascolta è appassionatissimo di Lynch ma per provocazione non la faremo su Velluto Blu ma la faremo su Una Storia Vera che è il suo film più lineare che in inglese si intitola The Straight Story che provocatoriamente significa anche la storia dritta ed è la storia vera di un vecchietto che per andare a trovare suo fratello morente ha attraversato sei stati degli Stati Uniti su un tagliaerbe e quindi Lynch fa questa storia vera che è piena di magie, di mistero e di cose strane come gli altri suoi film ma senza essere così disturbante come certi suoi film e quindi quello lo puoi vedere di Lynch. Senti, spiegami ancora una cosa su Nolan. Perché lo si accomuna tanto a Kubrick e a quale altro regista tu invece lo avevi paragonato? Spesso si paragona Christopher Nolan a Stanley Kubrick proprio per quello che hai detto tu prima per la sua ossessione e meticolosità nel ricostruire il più possibile il set reale e non usare effetti digitali. Lo stesso Kubrick, a parte che quando lavorava Kubrick non esisteva la CGI ma lo stesso Kubrick faceva ricostruire interi set come quello di 2001 come la città di Full Metal Jacket ricostruita in Inghilterra come un intero quartiere di New York ricostruito nei Pinewood Studios e faceva ricostruire interi ambienti in studio vabbè ma questo lo faceva anche Ridley Scott e Christopher Nolan non rinuncia alla possibilità di girare quanto più possibile nella realtà anziché in ambienti digitali. Sono due strade, due approcci diversi ma in questo modo per questo lo si paragona a Kubrick lo si paragona a Kubrick anche per il suo gelo apparente nel creare personaggi appunto freddi che sono pezzi di ingranaggi ma questo lo si accomuna perché c'è un giudizio errato su Kubrick si pensa che i film di Kubrick siano gelidi e glaciali e beh allora chi pensa a questo consiglio di rivedersi certi film di Kubrick per esempio Lolita, per esempio Ice Way Shot ma anche il Dottor Stranamore. Sarebbe più appropriato paragonarlo a David Lean perché David Lean è stato un regista di filmoni epici come Lorenz d'Arabia, il Dottor Zivago La figlia di Ryan e Passaggi in India quindi inglese come Nolan e quindi il vero predecessore di Christopher Nolan è David Lean per la scala, la magnificenza e l'ambizione dei suoi progetti altro motivo per cui è sbagliato paragonare Christopher Nolan a Stanley Kubrick è che Nolan realizza i suoi film all'interno di generi molto precisi che sono finora il genere fantascientifico il genere crime, thriller e il genere supereroistico mentre Kubrick ha sperimentato in tutti i generi tranne il musical ha fatto film di guerra, thriller, thriller erotici fantascienza, film storico in costume film di gangster, film storico spartaco cappa e spada e anche commedia il dottor stranamore siamo partiti da Memento per i vent'anni di questo film abbiamo allargato un sacco il discorso a questo punto diteci cosa ne pensate di Nolan se avete visto o rivisto Memento e come vi è sembrato dopo tutto questo tempo e senza anticiparvi niente vi diamo appuntamento al prossimo episodio temo che con questa puntata faremo arrabbiare alcuni dei nostri ascoltatori ma non potevamo che dire la verità e quello che pensavamo insomma quindi il dibattito è aperto grazie per l'ascolto alla prossima settimana ciao ciao